salvatete bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema su arena breakout infinity che non si avvia quindi in questo caso è possibile riparare il gioco oppure fare delle modifiche nella sua cartella quindi prova a riparare il gioco su aggiornamento automatico metti on e adesso andiamo direttamente nella sua cartella clicca qua sopra nella directory ora andiamo così nella cartella ab infiniti quindi arena breakout infiniti binaries qui 64 scendi fine giù fino a trovare così il game loader.exe tasto destro sopra mostrate opzioni proprietà compatibilità esegui questo programma come amministratore disabilita ottimizzazione schermo intero modifiche in votazione dei piedi elevati metti la spunta qua sopra sistema avanzato e fai applica una volta fatto vai su firme digitali visualizza il certificato installa il certificato utente corrente avanti fine una volta fatto fai questa procedura anche su il launcher rimuove il tini cash eccolo qua proprietà compatibilità e se questo programma come amministratore questo quali ma devi farlo rimanere così quindi non mettere la spunta qua mettiamo le spunta su dpi elevati sistema avanzato vai applica firme digitali visualizza certificato installa certificato stessa cosa facciamo ok qui sotto a sale trattino basso file c'è una cartella che si chiama tini cash elimina la cartella tini cash ecco la tini cash una volta fatto proviamo a vedere se in app data c'è la cartella arena breakout infinite quindi percento app data percento qua sopra scrivi esegui e qua vai a scrivere percento app data percento app data local ed ecco arena breakout infinity ora in questo caso elimina questa cartella qua la prima che vedi questa no questa quest'altra e quest'altra esci dal launcher ora prova ad avviare il launcher come amministratore andiamo su game settings di nuovo elimina la cartella engine e la cartella launcher launcher non possiamo eliminarla perché c'è il launcher aperto quindi chiudi launcher fai riprova svuota il cestino ora visto che abbiamo eliminato la cartella launcher se adesso vado ad avviarlo non si avvia perché è stata eliminata la cartella quindi in questo caso proviamo a reinstallare l'applicazione attenzionare l'applicazione attenzionare l'applicazione eliminando la cartella del launcher non è che si elimina proprio tutto il gioco come puoi vedere qua sotto c'è scritto launch ora su game settings fai ripara la riparazione la riparazione è stata fatta quindi il gioco dovrebbe andare senza problemi quindi chiudo un attimo qua e lancio il gioco come ti ho fatto vedere mi ha fatto fare due volte la riparazione prima ha visto cosa c'era che non andava e poi l'ha riparato di nuovo e il gioco sta andando quindi il gioco si è avviato senza problemi quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao